La prima domanda ho già risposto che non lo so cosa succederà nel futuro, però provo di accettare tutto con amore. Quello che riguarda se si compra qualcuno per il film russi o no, non lo so e non è domanda per me, piuttosto per i produttori russi, però io spero di sì. Mi sono trovata subito bene e ci siamo trovati subito bene perché arriviamo tutti e due per teatro e quindi abbiamo quel linguaggio in comune e anzi adesso sto sognando di fare qualche lavoro teatrale con Filippo, spero di farlo. Poi mi ha aiutato moltissimo lui sempre in ogni scena, avevo la spalla, avevo solo la spalla.